Come quaderni del Bardo edizione abbiamo pubblicato delle antiche etarie al culto di Satana di Antonio De Palma e Vincenzo De Lisio. Si tratta di un'analisi storica, simbologica e cronistica degli aspetti più intriganti legati alla criminologia esoterica. Si parte dallo studio delle tradizioni folcloriche ed esoteriche pagane, neopagane, fino a poi arrivare alle istituzioni e agli ordini trasversali iniziatici come l'Ordo Templi Orientis, l'OTO e ancora Psicosette come la Chiesa di Satana legata al satanismo acido di Lavi, di come certe istituzioni iniziatiche siano entrate all'interno di Hollywood o abbiano influenzato generi musicali come quelli del black metal e della black metal mafia della Norvegia. Un lavoro veramente interessante che tutti dovrebbero conoscere soprattutto per potersi districare e proteggere eventualmente da quelle zone d'ombra che nella nostra società contemporanea sono legate in qualche modo all'occultismo.